Capitolo 15 L'ultima risata Esatto, superstupidi! Ho un ultimo punto da mettere a segno! Insieme al mio ex socio d'affari! Fai buon viaggio, Luti! Vai prima tu, Joker! Finiranno per esplodere! Cosa succede, Joker? Com'è che non ti sento più ridere? E perché mai dovrei? Non c'è niente da ridere nello stare con te a fare il due per uno! No, 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 non è vero! Non può essere vero! Invece è così! Sì, 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 sì! Tu e i tuoi incidenti di laboratorio! Ho idea che voi due dividerete la stessa cella, eh? No, non nella prigione di Gotham! Dove faccia pensare che gli ho rubato il marchio di fabbrica! Il manicomio di Arkham non è un'opzione! Tu vai dove vado io, Lexi! No, tu vai dove vado io! Sono io che comando qui! No, sono io quello che comanda qui! Oh, hai avuto un incidente con i pantaloni! Abbiamo avuto un incidente! Non sei neanche divertente, sei solo calvo! No, siamo calvi! Allora? Ok, insieme facciamo una buona squadra! Al contrario di Luthor e Joker! Stai forse dicendo che sei pronto a firmare come amico onorario della Super Amici? E? Vorrei portarti con me, Robin, Ma qualcuno dovrà badare alla Batcaverna Mentre faccio le riunioni nella Sala della Giustizia? Sì! Cyborg? Oggi hai fatto un ottimo lavoro! Andiamo, vecchio mio! Perché mi sento confinato al tavolo dei bambini? È il tempo di fare esperienza per formare una nostra super squadra! Io ci starei, ai tuoi ordini! Anche se non ho i superpoteri? Anzi, ringrazia che non ce li hai! Se no, saresti lì con Superman a tirar su tonnellate di roba! Se non l'avesci notato, ci sono un sacco di cose che vanno rimesse tutte al loro posto! Oh! Grazie a tutti Grazie a tutti